buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a vediamoci chiaro oggi parliamo del miele quanto importante per la nostra alimentazione ma soprattutto cercheremo di guardare anche l'aspetto economico quanto costa che cosa guardare nelle etichette come abbinarlo beh faremo tutta questa sera di domande i nostri esperti che ringrazio per la presenza dei nostri studi in particolare saluto e ringrazio il presidente dell'associazione apicoltori della col diretti veronica barbati benvenuta presidente e benvenuta la dottoressa ben ritrovata dottoressa serena capurso biologa nutrizionista come sempre se avete delle domande sul miele su tutto quello che riguarda questo mondo c'è maris in diretta sono pronta quindi ben ritrovati anche voi cari amici che ci seguite da casa vi invito sempre a partecipare alle nostre dirette ci teniamo a sapere quali sono le vostre domande le vostre condivisioni quindi scriveteci al nostro numero whatsapp 340 880 10 35 vi ricordo anche la nostra mail vediamoci chiaro chiocciolatv2000.it e potete trovare già postate le nostre storie anche sui vari social quindi seguiteci su facebook instagram ed x presidente iniziamo proprio dal prezzo perché si è parlato moltissimo quest'anno dei prezzi un po per l'inflazione un po per il caro vita un po proprio per la difficoltà oggettiva nell'avere questo miele davvero sono schizzati così in alto questi prezzi del miele o sono stati sostanzialmente calmirati beh c'è da dire che nel mondo del miele tanto tanto lavoro resta da fare e mi fa piacere ti ringrazio per questa opportunità perché in realtà c'è una sicuramente dei prezzi che crescono il problema vero è che non sempre è un valore che è dovuto al prodotto miele in sé per sé ma che invece deriva da una serie di vicende anche di carattere speculativo che purtroppo ci riguardano tu considera che noi abbiamo sperimentato delle rese produttive in calo perché le api sono sensibilissime al cambiamento climatico quindi una volta che vengono meno le fioriture o comunque diminuiscono chiaramente le api hanno delle difficoltà ma noi abbiamo prodotto lo scorso anno 22 milioni di tonnellate ne abbiamo importate 25 con delle caratteristiche che nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo non rispettano gli standard di qualità e questo dato su questo dato del presidente ci soffermeremo perché arriva tanto miele dall'estero ma che miele arriva e dovete stare molto attenti qui a casa tra poco lo svederemo con il presidente Barbati ma passiamo alla dottoressa perché il miele lo possiamo prendere tutti o magari chi ha un po' il diabete deve stare attento a altre patologie lo possiamo suggerire a tutti quanti come elemento della propria alimentazione? Allora il miele ha delle proprietà fantastiche tanta tanta energia perché deriva fondamentalmente dalla quantità di zuccheri presente all'interno del miele lo possono usare praticamente tutti ovviamente nelle giuste quantità che questa è da sottolineare perché è sempre ovviamente questo che fa la differenza alla quantità da evitare solamente nei bambini quantomeno al di sotto di un anno per il rischio di botolino associato al consumo di miele che chiaramente non è non è sicuro però insomma nei bimbi così piccoli meglio evitare gli altri anche chi ha diabete è la quantità che fa la differenza. Ecco ma prenderlo la mattina può essere un aspetto energetico importante una persona anziana può anche magari utilizzarlo la sera? Allora l'OMS ci racconta la quantità di zuccheri liberi che noi possiamo aggiungere alla nostra alimentazione all'interno di questa quantità 25 grammi circa ovviamente poi ognuno dovrà vedere rispetto al proprio fabbisogno dobbiamo considerare anche il miele se al mattino se alla sera prima di andare a dormire se magari siamo un po' raffreddati non fa niente sicuramente ci dà una bella carica di energia quindi magari le persone anziane che spesso le energie le hanno basse possono aiutarsi con questo nutriente. Se entriamo in un negozio in un piccolo negozio che sono molto affascinanti dove ci sono queste tutte queste tipologie di miele o anche in un supermercato in un'azienda agricola beh un po' ci perdiamo perché ci sono talmente tante tipologie lo chiedo al presidente Barbati c'è millefiori, castagno, acacia, ce ne sono talmente tanti oggi che è veramente difficile orientarsi. Come dobbiamo, quante ce ne sono e quali sono le tipologie più diffuse del nostro paese? Potenzialmente ce ne sono quante è grande la nostra biodiversità. Quando parliamo di millefiori parliamo di un miele in cui chiaramente le api hanno bottinato così si dice su tipologie di fiori diverse quindi non è possibile collocarlo dentro una categoria. Io vedo davanti a me il miele di castagno vuol dire che l'ape abbottinato prevalentemente in maniera prevalente su quella tipologia di di fioritura. A dire la verità le varietà sono tantissime e le caratteristiche anche proprio dal punto di vista olfattivo dei sentori sono assolutamente diverse. Conosciamo indubbiamente millefiori che è quella più diffusa insieme all'acacia che è un miele molto delicato ma in realtà ognuno dei mieli che tu vedi qua se penso anche a quello di agrumi ha delle caratteristiche assolutamente particolari che secondo me dicevo prima no sperimentarle tutte perché in realtà io credo che all'interno della nostra alimentazione noi potremmo e dovremmo imparare a miscelare anche quello che è un prodotto estremamente naturale con quelli che sono anche le diverse tipologie di alimento che noi vogliamo preparare piuttosto che mangiare. E a proposito degli abbinamenti so che lei fa degli abbinamenti un po' particolari col miele dopo ce li svelerà e vedremo se la dottoressa è d'accordo se è la nostra biologa nutrizionista ma io ritorno dalla dottoressa Capurso per chiedere si utilizza moltissimo il miele anche nelle bevande calde no? Partiamo in un tè, una camomilla, in una tisana ma è giusto quando la bevanda è molto calda o bisogna un po' aspettare che diventi tiepida per inserire il miele? Insomma come ci dobbiamo comportarci? Ma no possiamo anche utilizzarlo nella bevanda calda. Il miele ha tante proprietà ma sono davvero più quelle organolettiche che quelle proprietà effettive della pianta da cui deriva poi il nome del miele perché? Perché su 100 grammi di prodotto 80 saranno di zuccheri, 18-19 saranno di acqua e in quell'1% si vanno a racchiudere tutte le altre proprietà nutrizionali quindi le caratteristiche che differenziano appunto un miele dall'altro ma è più una questione di gusto, più una questione di olfatto, di sapore e di piacere quindi noi dobbiamo avvicinarci al miele in questo modo e quindi quel cucchiaino di miele che utilizzeremo a sostituire lo zucchero e benvenga ovviamente questa scelta lo possiamo mettere anche sul tè o sull'infuso caldo. Le domande da casa Maris? Ci stanno scrivendo i nostri telespettatori e allora subito mi rivolgo alla Presidente Barbati c'è una telespettatrice che dice buongiorno mi chiamo Cristina, ho aperto un vasetto di miele e dopo pochissimo tempo è diventato molto amaro. Vuol sapere è ancora commessibile se è rovinato? Beh è possibile che questo sia, ovviamente dovrebbe guardare tutte quelle che sono le indicazioni che sono presenti, dovrebbero essere presenti in etichetta ma in generale il fenomeno che riguarda il miele dal punto di vista delle sue modificazioni può essere quello della cristallizzazione se cambia di sapore in questo caso io sarei cauto ed eviterei insomma il consumo. Presidente Barbati, prima lei ha citato iniziando la trasmissione questo arrivo enorme di miele del nostro paese ma arriva purtroppo e questo bisogna sottolinearlo anche tanto miele contraffatto viene tanto miele da paesi molto lontani che non usano una serie di criteri rigidi come ci sono nel nostro paese. C'è questo rischio? Assolutamente sì. Come facciamo ad accorgersene? Beh in realtà il problema è proprio questo che una volta che il miele finisce nel vasetto noi ci atteniamo a quello che possiamo leggere sull'etichetta e quindi non sappiamo se non c'è stata un'attività di analisi come sta avvenendo per fortuna in questo momento però che cosa ci dicono i dati? Che noi vediamo che nei campioni di miele cinese arriviamo al 93% di campioni che non sono che non rispettano gli standard qualitativi quindi insomma un dato elevatissimo stesso dicasi per la Turchia. Tra l'altro arrivano sul nostro mercato con dei prezzi che sono assolutamente decisamente più bassi cioè parliamo di media di 2,14 euro quando noi abbiamo avuto con anche l'osservatorio del miele un'analisi dei costi di produzione del miele nel nostro paese e ci siamo resi conto che mediamente un costo di produzione giusto arriva a 10 euro quindi oggettivamente siamo totalmente fuori e poi dobbiamo salvaguardare la salute dei cittadini non possiamo consentirci. A proposito di salute dottoressa il rischio è bisogna comprare un mila di qualità un po' tutti i prodotti agroalimentari devono essere di qualità perché sennò i danni sulla salute magari spendiamo poco ma i danni sulla salute sono enormi insomma. Pensate a quante volte noi ingeriamo degli alimenti più volte al giorno per tutti i giorni della nostra vita quanto quello che mangiamo può influenzare la nostra salute tantissimo sia in positivo che in negativo quindi fare delle scelte di qualità diventa fondamentale per permetterci di stare bene in salute magari moderiamo la quantità, scegliamo la qualità degli alimenti e se abbiamo una dieta varia rispettando quelle che sono le frequenze che ci consiglia il nostro ministero o che ci consiglia l'OMS quindi inseriremo tutte le varietà anche alimenti che hanno un prezzo magari basso e riusciamo a mangiare bene scegliendo di qualità. Maris. Allora c'è una nostra telespettatrice che vuol sapere dalla Presidente che cosa ne pensa del miele bio se effettivamente è un sinonimo di maggior qualità o è soltanto una trovata marketing? Parlo ovviamente di quello acquistato al supermercato con le etichette con scritto bio e quindi un prezzo maggiore. In realtà diciamo che non è una trovata marketing, ci sono due mondi, la nostra agricoltura contempla due mondi c'è da dire che l'apicoltura in generale essendo l'ape estremamente sensibile fa un livello di attenzione generalmente altissimo. Ovviamente il miele bio evidentemente sta davanti ad una scelta dell'imprenditore che ha scelto di dare, probabilmente perché sarà in un certo territorio con delle particolari caratteristiche un valore aggiunto rispetto a quello che però è il territorio stesso. Non c'è distinzione dal punto di vista qualitativo nel dire che il miele bio è migliore qualitativamente rispetto all'altro. anche e soprattutto perché ripeto nel mondo delle api l'attenzione a questi aspetti è già elevatissima perché l'ape è estremamente sensibile. Quindi sono due modelli produttivi, ognuno di noi chiaramente sceglie cosa valorizzare e come valorizzarlo però non porrei l'accento sulla differenza della volontà dell'impresa di puntare sul bio oppure no. Chiaro che quando si parla di bio c'è sicuramente un impegno diverso da parte delle aziende e quindi è assolutamente anche giustificato la differenza di prezzo che poi generalmente in questi casi noi abbiamo. Scegliere un miele, assaggiarlo, anche capire la qualità di questo miele. Beh, ci tuffiamo a Bologna e vediamo che cosa fanno tante persone che cercano in qualche modo di capire anche la tipologia di quel miele che poi noi mangiamo normalmente. Vediamo. Siamo al CREA, il Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna. Ci occupiamo di svolgere attività nell'ambito del supporto del mondo delle api. Svolgiamo analisi chimiche, fisiche, microscopiche e l'analisi sensoriale del miele. Si osserva la massa del miele alla ricerca di eventuali difetti che potrebbero essere la schiuma, l'impurità, le separazioni in fasi o anche una cattiva cristallizzazione. Successivamente si porta il miele al naso avendo cura di spargere uniformemente il prodotto sulle pareti del bicchiere perché questo aiuta l'esalazione delle componenti aromatiche e si fa quindi una prima discriminazione grazie al nostro bulbo olfattivo. Uno o due grammi di miele vengono assaggiati molto lentamente cercando di sciogliere il prodotto sulla lingua e si percepiscono sia i sapori fondamentali sia gli aromi. L'ultima analisi che si fa è quella tattile, ovvero lo studio della consistenza e della viscosità del miele. L'analisi sensoriale può essere utile sia ai consumatori che ai produttori. Innanzitutto ci permette di identificare e riconoscere i mieli uniflorali e i mieli millefiori. Poi ci permette di distinguere eventuali difetti e riconoscerli e può essere utile per i produttori per valorizzare meglio il proprio prodotto. L'Italia vanta un patrimonio di mieli unico al mondo in quanto da nord a sud troviamo diverse situazioni climatiche e vegetazionali. Possiamo distinguere innanzitutto i mieli millefiori dai mieli uniflorali. I mieli millefiori sono quelli fatti a partire da delle colture diverse, quindi l'ape bottina su diverse fioriture, mentre il miele uniflorale è quello dove le api vanno a bottinare principalmente o esclusivamente su una sola fioritura. La formazione dell'esperto in analisi sensoriale del miele si articola in tre corsi. Questi corsi sono aperti a tutti. Innanzitutto li consigliamo agli apicoltori, però anche ai consumatori o ai semplici appassionati che desiderano approfondire il mondo del miele. Eccoci di nuovo in studio. Abbiamo visto il nostro servizio per vedere la qualità del miele che mangiamo. Però poi c'è un altro aspetto, un altro capitolo, quello degli abbinamenti. Allora, subito io lancio alla dottoressa. Col formaggio è un abbinamento che tanti fanno, però è qualcosa di significativo per la nostra alimentazione e nutrizione? Allora, sì, chiaramente si associano spesso ai formaggi di varia stagionatura delle confetture oppure del miele, proprio per le qualità sensoriali che hanno questi alimenti. Quindi benvenga questa associazione, anche perché parliamo sempre di quantità piccole. non è che mangeremo quattretti di formaggio e 50 grammi di miele. Piccole quantità, abbiamo detto, di qualità. Presidente, lei le ha sperimentate tutte con questo miele. Addirittura mi raccontava, lo possiamo dire, che utilizza il miele anche sulla carne. È così? Sì, assolutamente sì. Io lo uso per esempio per dei processi di aromatizzazione della carne, anche proprio di marinatura, perché il miele si utilizza in questo caso, ovviamente in abbinamento con delle spezie, ma io prendo il miele nel caffè, per esempio, in particolare, anzi solo, perché gli altri non dà le mie sperimentazioni, quello di castagno, che dà al caffè un sapore, lo consiglio, insomma, straordinario. Poi in realtà ci sono tanti, tanti abbinamenti, non solo con i formaggi, come ti dicevi, ma per esempio con anche i formaggi, quelli spalmabili, quelli morbidi, e tanti altri con i dolci, anche perché il miele è largamente utilizzato. Qual è la tipologia più utilizzata per i dolci? Beh, sicuramente andiamo su quelli, diciamo, a carattere pluriflorale, quindi diciamo il millefiori in generale, poi dipende, perché per esempio, nella nostra tradizione anche campana, ci sono insomma delle preparazioni in cui si usa quello di castagno, assolutamente. Sulla carne che utilizza? Sulla carne millefiori. Millefiori, ferma lì. Dottoressa, sulla carne possiamo utilizzare, o è un contrasto un po'... Ricordiamoci, 25 grammi di zucchero libero da distribuire nella nostra giornata, quindi quelle quantità noi le possiamo mettere nel latte, nello yogurt, nelle preparazioni. Quindi se non lo prendiamo alla mattina, la possiamo utilizzare sulla carne. Quindi è una sperimentazione molto interessante. Io vorrei aggiungere una riflessione, mi permetto, perché è una di quelle che ho fatto anch'io. Quante volte noi in realtà, in maniera inconsapevole, consumiamo per esempio zucchero, zucchero in generale, non sapendolo perché ce lo ritroviamo quale ingrediente all'interno delle cose. Quindi forse magari se dovessi fare una scelta, sceglierei più qualcosa di naturale che quantomeno, insomma, mi... Andiamo a casa dei nostri telespettatori. Allora, il signor Arturo chiede, la dottoressa Capurso, ma la pappa reale è un buono ricostituente, ma anche per chi soffre di diabete? È un buon ricostituente, assolutamente sì, proprio per la natura della pappa reale, che è uno dei prodotti, ovviamente, dell'arnia. Quindi si può utilizzare, lo possono utilizzare anche le persone diabetiche. Io ricordo sempre questo, il soggetto diabetico è un soggetto che non può esagerare con la quantità di zuccheri totale della sua giornata nei singoli pasti e deve fare attenzione, semmai, alla velocità con cui questi zuccheri vengono assorbiti. Ma ben venga la pappa reale. Ancora una domanda, Maris? Ancora una domanda. La signora Paola dice alla Presidente Barbati, ecco, ma è migliore il miele liquido o quello cristallizzato? Ecco, tra l'altro si fa fatica un pochino a spalmarlo, però quale preferire? Beh, in realtà il processo di cristallizzazione del miele, di alcuni in particolare, è un processo assolutamente naturale. Quindi, ancora una volta, è una dimensione di carattere più soggettivo. Quindi, se io preferisco, per delle mie necessità, per piacere, è prendere quello liquido. Ma in realtà il processo di cristallizzazione è un processo naturale, peraltro, in alcuni casi, si tende a riscaldarlo un pochino, perché attenzione con le temperature rispetto al miele, per renderlo un pochino più liquido. Ma in realtà, dal punto di vista qualitativo, non è quantitativo e qualitativo, quello non è un indicatore di qualità. Tosse e mal di gola, ha proprietà curative il miele, dottoressa? Ha delle proprietà antisettiche interessanti, poi è ovvio che lì, a questo punto, possiamo scegliere, magari, un miele che abbia delle proprietà di partenza, date anche dalla fioritura, da cui queste api iniziano a lavorare, no? Quindi, ad esempio, potrà utilizzare anche un miele di eucalipto, ad esempio, che ha delle proprietà per le prime vie aeree. Quindi, sì, si può utilizzare sempre nelle giuste quantità. Presidente Barbati, sul tavolo vediamo anche delle attrezzature, proprio per utilizzare, per creare un'azienda, no? Per fare l'apicoltore. Allora, ci date delle indicazioni? Quanto costa mettere su un'attività del genere, se c'è bisogno di particolari licenze, voglio dire, tesserini, patentini, non so, non ne ho idea, perché, insomma, è un'attività importante, ma bisogna farla con passione, ma anche con attenzione. Assolutamente, sì. Devo dire che quella dell'apicoltore, probabilmente rispetto ad altre tipologie di attività, è un'attività che non richiede investimenti grandissimi, quantomeno per la produzione tal quale di miele. Poi, ovviamente, una volta che ho acquistato le arnie, che curo, quindi, le api, è chiaro che io debba avere un laboratorio presso cui poi fare lavorazione, quindi il processo di smellatura, che debbano chiaramente rispettare tutte quante le condizioni igienico-sanitarie e tant'altro. E poi, però, io ti do un'indicazione, Giuseppe, rispetto anche a quanto questo mondo sta cambiando, proprio in funzione di quello che dicevamo, rispetto alle importazioni, cioè rispetto anche alla difficoltà, in questa fase del consumatore, di riconoscere il miele e le sue caratteristiche, anche qualitative, perché probabilmente ne abbiamo parlato poco in questi anni, l'abbiamo visto come un elemento, come dire, che accompagnava altri elementi, ma non gli abbiamo dato una sua dignità, una sua centralità. Proprio per questo, in questa fase, tantissime sono le imprese apistiche che stanno lavorando tanto sulla ricerca, quindi, in realtà, quando parliamo di investimenti ridotti, dipende sempre e comunque da come un'impresa, l'imprenditore che c'è dietro, vuole approcciare l'attività, perché c'è in realtà un mondo da conquistare e perché rispetto ad una serie di questioni che noi sperimentiamo, abbiamo, come dire, anche la volontà di essere proattivi, propositivi dentro il processo e quindi dire ok. In una battuta, ci sono molti giovani che seguono questa attività? Ce ne sono tantissimi, siamo al 33-34%. 33-34% di tutti i produttori di allevato, cioè coloro che producono miele, è una cosa interessante. Molto, molto interessante. La signora Carmela chiede alla dottoressa Capurso, scrive in questo così su WhatsApp, sono una paziente oncologica e nell'alimentazione mi hanno inserito il miele integrale. Vuol sapere, ecco, che cosa significa miele integrale? È un miele che non ha subito dei processi di pastorizzazione, quindi dei processi ad alta temperatura che a volte vengono utilizzati per permettere una conservazione più sul lungo periodo, quindi sicuramente è un miele che mantiene benissimo le sue proprietà di partenza, quindi bene la scelta del miele integrale. Presidente, la conservazione del miele a casa, una volta acquistato, un miele di qualità, lo ribadiamo, è come conservarlo nel migliore dei modi e quanto tempo possiamo tenere, perché proprio mangiandone poco, prendendo un cucchiaino al giorno, quindi dura tanto. Però, insomma, come dobbiamo conservarlo a casa? Beh, come è sempre buona regola e questo con tutti quanti i prodotti conservati, una volta aperti i vasetti, se non lo si riesce in generale a consumare in un arco di tempo relativamente breve, una settimana, dieci giorni, perché poi dipende dal nucleo familiare, dalla grandezza del vasetto, una delle indicazioni che possiamo utilizzare tutti in maniera molto semplice è trasferirlo in dei vasetti più piccoli e tenerli chiusi, perché in generale questo è un processo che funziona sempre, facile da realizzare e ci garantisce di poter portare avanti la vita utile di quel prodotto per lungo tempo. Ma non dobbiamo metterlo in frigo, chiaramente. Non va messo in frigo, non va esposto a temperature altissime, lo diceva bene prima la dottoressa, va tenuto possibilmente anche al riparo dalla luce. Dottoressa, facciamo un passo indietro, perché, allora, sull'etichetta, ne abbiamo parlato poco all'inizio, abbiamo solamente accennato, ma sull'etichetta che cosa devo guardare? Perché spesso ci sono tanti nomi, uno va a comprarlo, dobbiamo guardare qualcosa in particolare per capire la qualità di quel miele che stiamo acquistando? Io direi la scelta della provenienza di quel miele, quindi noi abbiamo una produzione in Italia di tutto rispetto e quindi dobbiamo facilitare questo tipo di produzione, quindi acquistare un miele che rispetta nei processi di produzione la normativa nostra, che è una normativa sicuramente particolarmente attenta, ci mette in maggiore sicurezza. Se andiamo a vedere che sono mieli, magari extra UE o comunque di altri territori, non sappiamo lì effettivamente i processi quali sono, o meglio sappiamo anche che in quei processi sono permesse delle aggiunte che qui non sono permesse, allora andiamo a prendere un prodotto che sì, magari costerà di meno, però sarà un prodotto di scarsa qualità. Fondamentale come sempre l'etichetta, Maris? A proposito di etichetta, la signora Francesca Davarese chiede alla Presidente Barbati, ecco dice, ultimamente non trovo più sull'etichetta la dicitura estratto a freddo con metodi meccanici, vuol sapere se è cambiato qualcosa e chiede anche la dottoressa, siccome il figlio è allergico a mandorle e betulle, vuol sapere se deve far lievitare qualsiasi tipo di miele. Iniziamo alla Presidente. Beh, in realtà no, consideriamo che gli allergeni vanno indicati in etichetta, pertanto li dobbiamo trovare nel caso in cui ci sono delle allergie. Quello su cui noi stiamo lavorando e tanto, diciamo, la nostra storica battaglia è quella dell'origine, no, in etichetta, perché purtroppo molto spesso, e questo rispetto a quelle mistificazioni di cui parlavamo prima, può essere un'indicatura, perché se noi troviamo in etichetta miscela di mieli, o è non o è extra o è, noi in realtà non sappiamo da dove quel prodotto viene e quindi anche potenzialmente quali sono le norme che rispetta. Se andiamo su un miele italiano sappiamo che abbiamo per fortuna sempre scelto degli standard qualitativi che per i produttori in alcuni casi sono a volte anche difficili, no, in termini di oneri, di gestione, ma che però fanno in modo di salvaguardare sempre e al massimo la salute dei cittadini e comunque la salubrità dei prodotti. C'è una tipologia di miele più pregiata, dottoressa? Sicuramente quelli che sono mono diciamo fioritura, quindi il millefiori di solito è quello che magari usiamo anche di più, forse a un costo un po' più basso, questo poi me lo sa dire l'esperta, però i mieli che vengono da un'unica fioritura sono normalmente più pregiati perché devono rispettare un'attenzione anche di raccolta del miele ed altro ben specifica. Presidente, ma il colore ha un significato il colore del miele? quando compriamo un baratto lo vediamo il colore eccessivamente insomma scuro o meno ha un valore o un insignificante? Dipende, diciamo che se prendiamo un miele di castagno come questo che è generalmente così, ha un colore molto carico, se io dovessi comprare un miele di castagno bianco diciamo avrei qualche difficoltà, quindi ancora una volta tutto dipende dalla tipologia di miele che io sto scegliendo e quindi sì anche il colore in questo caso diventa un indicatore. Maris? La dottoressa Capuzzo dovrebbe aiutare a rispondere alla signora Antonella e dice chiedo gentilmente se è vero che il miele di manuca ha proprietà antitumorali e di ridurre il colesterolo e tante altre proprietà. Allora, il miele di manuca sicuramente ha delle proprietà molto interessanti antibatteriche, antisetti che vengono utilizzate anche per uso topico ma uno costa tantissimo due sempre dal punto di vista alimentare la quantità da rispettare dovrebbe essere la stessa e per piacere non diamo proprietà antitumorali o miracolose al singolo alimento perché ahimè non esiste sarebbero tutti contenti se fosse diversamente ma non è. Giuseppe hai parlato con la Presidente insomma del colore e vogliono sapere tanti telespettatori Antonella da Campobasso la prendo insomma un po' come portavoce come si fa a capire se il miele è ancora buono ecco diciamo uno un po' da profano ha un barattolino di miele a casa abbiamo capito che non va messo in frigorifero lo guardiamo come facciamo a sapere se è ancora commessibile? diciamo che quello è difficile riesce ad essere difficilmente un indicatore nel senso che tante volte noi non abbiamo il caso della telespettatrice di prima si è modificato il gusto ma il colore è rimasto inalterato io ripeto sempre l'importanza dell'etichetta cioè guardiamo per le diverse tipologie anche per i processi di lavorazione che eventualmente sono intervenuti qual è la shelf life del prodotto e chiaramente rispettiamola l'anno prossimo com'è la situazione della produzione e dei prezzi perché poi il miele si produce tutto l'anno beh il miele si produce insomma dipende ancora una volta dalle fioriture e considera che quando si parla di cambiamento climatico noi stiamo sperimentando proprio uno spostamento delle fioriture da una stagione all'altra quindi questo sarà il grande problema che accompagnerà questo settore sono fiduciosa però sappiamo che oggettivamente il cambiamento climatico c'è e persisterà dottoressa in chiusura la fetta biscottata la mattina con un po' di miele va bene così mi tranquillizzo anche io bene anche il pane con magari un pochino di ricotta o di burro e miele e allora possiamo sicuramente iniziare la giornata con veramente con tanta energia grazie ai nostri ospiti grazie al presidente dell'associazione Apicoltori della Coldiretti Veronica Barbati grazie presidente e grazie alla dottoressa Serena Capurso biologa nutrizionista chiudiamo qua la puntata come sempre ma non andiamo via no assolutamente noi vi aspettiamo qua fino domani mattina alle 10.30 perché vi diamo appuntamento parleremo della sessione del quinto ecco sempre più richieste da parte di lavoratori da pensionati ma insieme capiremo domani che cos'è quali sono i pro e i contro e soprattutto quali sono le regole e a chi rivolgersi perché purtroppo è un mondo dove ci sono tanti personaggi che creano non pochi problemi alle persone che hanno necessità come un pensionato o un dipendente ti parliamo domani mattina a 10.30 come sempre a tutti quanti voi grazie grazie ancora e serena giornata grazie a tutti grazie a tutti